Cari quadisti, eccoci con Nicoletta Veggiari e Giorgio Carletti, i fautori e promotori del campionato italiano Quad Cross, vi ricordiamo addirittura fin dai primi anni 2000 quando ancora si chiamava Quad Motarda. All'oggi Federazione Motociclistica Italiana, la nome e riconoscimento di campionato italiano Quad Cross assoluto e quindi la citazione dei vincitori sull'albo d'oro della Federazione Motociclistica. Sono qua a Cingoli, hanno predisposto una fantastica hospitality per tutti i piloti dell'italiano, grazie al loro sponsor. Questa è l'hospitality con due splendide ragazzi immagine, tanti prodotti tipici, è un punto di ristore e di ritrovo per tutto lo staff dei quad italiani. Giorgio, raccontaci la tua avventura, raccontaci cosa ne pensi dell'europeo, raccontaci degli sviluppi futuri dell'italiano che ci saranno sicuramente per il 2011. Sicuramente sempre piste più impegnative, dal momento che la qualità dei piloti sta crescendo tantissimo in Italia, siamo qua all'europeo in veste di hospitality perché abbiamo fatto questo ristrutturamento nei confronti dei piloti italiani, con la casa Marche Capitalia, ringraziamo tutte le aziende che si hanno aiutato a fare questo ristrutturamento a Cingoli, il tempio dello sport crossistico. Grande Giorgio, speriamo e siamo sicuri che farai di tutto per inserire anche la data di Cingoli e di crossodromi sempre più belli nel panorama del campionato italiano Qualcross. Un grande ringraziamento da parte di tutta l'utenza, da parte degli appassionati di quad italiani e un arrivederci a settimana prossima nel crossodromo di Ravenna, dove si terrà la prova del campionato italiano Qualcross. Delle piccole anteprime per Ravenna, come la vedi e cosa ne pensi? Sicuramente esordiamo con le operazioni preliminari e le istruzioni il sabato, così cercheremo di esemolare al meglio le prove libere, le qualifiche e le gare vero e proprio la domenica. Quindi da sabato alle 14 faremo tutte le operazioni preliminari per cercare di sfruttire tutto il vasto pubblico che ci sta seguendo. Quindi una grande news per il pubblico, ecco la nostra Nicoletta. Le operazioni preliminari avverranno sin da sabato per quanto riguarda la data di Ravenna. Ragazzi siete dei grandi e ogni volta aumentate sempre di più i servizi che offrite all'utenza. Un grande ringraziamento e un arrivederci direttamente a Ravenna. Ciao ragazzi. Ciao, grazie.